Bisognerà stringere ancora i denti, ma la ripresa economica ci sarà. Lo assicura il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali Enrico Giovannini, intervenuto a Palermo in occasione dell'apertura delle giornate dell'economia del Mezzogiorno. E mentre l'Istat lancia l'allarme, segnalando il raddoppio negli ultimi cinque anni in Italia del numero di persone in condizioni di povertà assoluta, ovvero ben 4,8 milioni di individui, Giovannini invita a non lasciarsi scoraggiare dalle fibrillazioni politiche e sottolinea l'impegno del Governo per mettere ordine nel disordine, diverse le questioni spinose da affrontare. A partire ad esempio dal precariato. Il decreto recentemente approvato dalla Camera e dal Senato consente a molte persone che hanno lavorato in modo con tempi determinati di fare concorsi per essere assunti a tempo indeterminato. È chiaro che è una soluzione parziale. D'altra parte la finanza pubblica ha dei vincoli molto forti e quindi l'impegno del Governo è quello di offrire comunque opportunità di lavoro. In tema di provvedimenti per fronteggiare la crisi il Ministro ha le idee chiare. Manca la legge di stabilità che spinge verso un aumento della domanda di consumi, di investimenti e anzi stimola direttamente la domanda attraverso una ripresa degli investimenti pubblici dopo molti anni di restrizioni. Non può mancare il riferimento alla gravità della situazione del mezzogiorno d'Italia. Ci sono interventi che guardano in particolare al mezzogiorno e alle regioni del sud. Ad esempio i 170 milioni che nei prossimi tre anni abbiamo messo sui tirocini formativi di giovani. La stessa cosa per gli interventi per la povertà, poiché la situazione nel mezzogiorno è più grave dal punto di vista sia occupazionale che della povertà. E gli incentivi anche alle assunzioni a tempo indeterminato sono soprattutto concentrati nel mezzogiorno. Grazie a tutti.